Oggi vogliamo parlarti di un problema serio. Vuoi eliminare il grasso sulla pancia in vita e sulla schiena? Puoi provare a fare degli addominali per la pancia, delle rotazioni per le maniglie dell'amore e, disteso a pancia in giù, sollevare gambe e braccia per rassodare la schiena. Le cinture addominali come questa possono aiutare, ma devi prima posizionarla sulla pancia, poi su un lato, poi sull'altro lato e infine sulla schiena. Non sono molto efficienti. Ora, finalmente qualcuno ha trovato la soluzione. Ti presentiamo la Gym Forms Heb Surround, l'innovativa cintura fitness che lavora sull'intera parte centrale del corpo. Adominali alti, bassi, obliqui, vita, schiena e anche sui muscoli che sostengono la colonna, tutto allo stesso tempo. Oh mio Dio! Riesco a sentire gli addominali che lavorano, ho come la sensazione che mi si scolpiranno in due minuti. Wow, è incredibile! Non mi aspettavo tutto questo, è davvero forte. Non riesco a credere quanto stia vibrando tutto il mio corpo, è potente! È merito dell'innovativa tecnologia di stimolazione muscolare a 360 gradi di Heb Surround. Questo innovativo apparecchio utilizza l'elettrostimolazione muscolare, scientificamente provata e utilizzata con successo da atleti e astronauti. Heb Surround è l'unica cintura in grado di eliminare il grasso e di scolpire tutti i muscoli della pancia. Tonifica le tue maniglie dell'amore donandoti una figura snella e sexy. Eliminerai il grasso e rafforzerai i muscoli della schiena, così miglioreranno anche la tua postura e il tuo equilibrio. Heb Surround ha sei diversi programmi che vanno da contrazioni rapide e discontinue a contrazioni lunghe e profonde. Tre diversi canali, uno per la pancia, uno per il punto vita e uno per la schiena. 99 livelli di intensità per ogni canale, per un totale di ben 594 impostazioni per svolgere il tipo di lavoro che desideri. Questo significa che se vuoi un livello di intensità maggiore sui tuoi addominali ma un livello medio in vita e sulla schiena, non c'è problema, puoi farlo. È il tuo allenamento quotidiano. Heb Surround contrai i tuoi muscoli così velocemente che ti sembrerà di svolgere fino a 400 piegamenti, 400 rotazioni e 400 esercizi per la schiena al minuto nello stesso tempo. Così i tuoi muscoli lavoreranno più intensamente e bruceranno grassi più in fretta e con meno sforzo. Basta avvolgere il corpo con la cintura Heb Surround e accendere l'apparecchio. Puoi fare tutto quello che vuoi in giro per casa. È il tuo allenamento quotidiano di 10 minuti. Puoi anche decidere di trasformare il tuo salotto in un centro fitness Heb Surround. Niente stress, niente sforzi e niente sudore. Tra poco incontrerai Jordan Adams e la vincitrice di molti titoli fitness Amanda Latona che ti presenteranno una campionessa di arti marziali, un coraggioso stuntman professionista e una ginnasta olimpica. Tutti loro si fidano di questa cintura innovativa, utile per tonificare ed eliminare il grasso su pancia, punto vita, schiena e busto. Ti presentiamo la Gym Forms Heb Surround. Salve, sono Jordan Adams e questa è Amanda Latona che ha vinto più tolipitness di quanti ne riesca a contare. E questi sono i nostri modelli. Hanno indossato la cintura e se ne stanno spaparanzati in poltrona, ve la prendete comoda? Già, se la prendono comoda, su questo non c'è dubbio. Chiunque si alleni con Gym Forms Hubs Around ha vita facile. Non bisogna raggiungere palestre distanti da casa o mettersi in fila per usare un apparecchio. Avete tutto quello che vi serve a casa vostra. Infatti Jordan, io sto lavorando mentre parlo. Wow! Già. Non stai facendo nulla di faticoso. Insomma, guarda i miei muscoli come si muovono. I muscoli dell'addome, i muscoli della schiena e sì, anche i miei muscoli obliqui. Tutto il mio busto sta svolgendo un allenamento intensivo proprio qui e lo sta facendo mentre parlo con te e con gli amici che ci seguono da casa. Già, ho usato Hubs Around per 30 giorni e non riesco a descrivervi quanto sia stato efficace. Guardate voi stessi. Wow! Però... Questo è l'allenamento più semplice che abbia mai svolto. Potrete guardare la tv, preparare la cena, lavorare al computer o rilassarvi in piscina e allenarvi nello stesso tempo. 30 giorni fa mi sono guardata allo specchio e ho visto che la mia pancia stava diventando un po' flaccida. Mi sono preoccupata, ero molto... nervosa per come stavo diventando. Poi ho usato la cintura Hubs Around per 30 giorni e ho visto realmente il grasso scomparire. Ho visto che mi dava risultati reali. Adoro il modo in cui la mia pancia si sia snellita e rassodata. Tutti voi sapete bene che negli ultimi 10 anni sono uscite sul mercato decine di cinture e quasi tutte lavorano allo stesso modo. Se vuoi lavorare sulla pancia devi posizionarla qui. Se vuoi snellire la vita devi metterla qui e poi qui. E per la schiena, beh, devi posizionarla qui. Ora tutto questo è noioso e richiede molto tempo. Grazie alla scienza Hubs Around è meglio di qualunque altro apparecchio. Perché? Perché si basa su una tecnologia di stimolazione muscolare a 360 gradi. Hubs Around lavora non solo sull'intera area addominale, ma anche sui muscoli obliqui, sulle miglie dell'amore e sui muscoli della schiena, tutto nello stesso tempo. Questa tecnologia a 360 gradi rende Hubs Around la cintura più innovativa in commercio perché lavora al massimo sull'intero busto, davanti, dietro e di lato. Hubs Around stimola e rinforza tutti i muscoli, inclusi quelli profondi che sostengono la colonna vertebrale. Questo significa che tonificherete gli addominali alti e quelli bassi, eliminerete il grasso e avrete un addome a tartaruga, rassoderete il punto vita, eliminerete il grasso e avrete una figura più snella e più sexy, rafforzerete i muscoli della schiena e avrete un migliore equilibrio e una migliore postura. All'inizio ero scettico su Hubs Around, ma quando ho iniziato a usarlo me ne sono innamorato. Innanzitutto perché mi permette di potenziare i muscoli del busto senza svolgere esercizi mirati. In passato ho provato a svolgere piegamenti di ogni genere senza mai ottenere dei risultati. Con questo ho sentito subito la differenza. Chiama ora e acquista l'innovativa cintura fitness Gym Forms Hubs Around. Sarà tua a soli 99 euro. Ti basta una telefonata per ricevere l'innovativa cintura fitness ad alta intensità Hubs Around completa dell'innovativo microprocessore e lettore digitale su cui sono riportate la tipologia e l'intensità del lavoro svolto davanti, lateralmente e dietro. Inoltre riceverai questa piccola borsa per portare la tua Hubs Around con te anche in viaggio e la nostra guida nutrizionale. Ma non è finita. Se rientrerai tra i precento che telefoneranno, ti invieremo anche questa piccola cintura fitness per lavorare in modo mirato su bicipiti, tricipiti, spalle, polpacci e cosce per eliminare la cellulite. Riceverai due cinture al prezzo di una. Una cintura lavora su tutta l'area del busto, mentre quella piccola effettua un lavoro mirato sulle altre parti del corpo per un allenamento davvero completo. La cintura fitness Hubs Around con microprocessore, la borsa da viaggio, il piano dietetico e la mini cintura per lavorare sulle altre parti del corpo, tutti questi prodotti saranno tuoi a soli 99 euro. Un corpo tonico, sexy e con addominali scolpiti. Ti basta una telefonata per ottenerlo. Le nostre linee sono aperte. Chiama adesso! La Gymform Hubs Around si basa sull'elettrostimolazione muscolare provata scientificamente. Perché è così efficace? Perché anziché lasciare che sia il cervello a ordinare ai muscoli di muoversi, come succede con un apparecchio tradizionale, il microprocessore dell'Hubs Around lavora al posto del vostro cervello. Attiva tutti i neuroni motori in un punto, creando una contrazione muscolare involontaria. Anche la NASA utilizza l'EMS per aiutare gli astronauti a restare in forma nello spazio. Quindi, se volete snellire la parte centrale del corpo, Hubs Around è quello che vi serve. Prove scientifiche lo dimostrano. È stato condotto uno studio indipendente su uomini e donne di età compresa tra i 28 e i 55 anni. È emerso che il 77% delle persone che hanno utilizzato Hubs Around ha ridotto in modo evidente l'intera area addominale in due settimane. Dopo altri 15 giorni, la percentuale di partecipanti che ha assistito a un cambiamento significativo è salita al 92%. Se Hubs Around ha funzionato con loro, funzionerà anche con voi. Prima, l'elettrostimolazione muscolare veniva utilizzata solo per la riabilitazione di atleti infortunati. Negli anni è stata perfezionata per poter essere usata da tutti. Due università francesi hanno effettuato degli studi su dei giocatori di basket e dirvi che grazie all'elettrostimolazione muscolare hanno migliorato le loro prestazioni atletiche. Da uno studio è emerso che chi pratica l'elettrostimolazione muscolare unita a un programma di esercizi sviluppa degli addominali più forti rispetto a chi svolge soltanto esercizi. La Gym Forms Hubs Around rappresenta l'ultima innovazione in materia grazie alla sua tecnologia di stimolazione a 360 gradi. Ora vi mostreremo perché è così valida ed efficace. Questa Amy Jo sta svolgendo dei normali piegamenti per sviluppare i muscoli dell'addome. Tony sta effettuando delle rotazioni per lavorare sui suoi muscoli obliqui. David sta svolgendo delle flessioni laterali per lavorare sulle sue maniglie dell'amore. Mentre Caroline sta lavorando sui muscoli della schiena. Per lavorare in modo efficace su tutto il busto dovreste svolgere centinaia di questi esercizi al giorno ma nessuno riesce a farlo, neanche gli atleti professionisti. Ecco perché è stata ideata la Gym Forms Hubs Around. È in grado di compiere fino a 400 stimolazioni muscolari al minuto su tutti i muscoli del busto contemporaneamente. Così in una seduta di 10 minuti svolgerete virtualmente 4000 piegamenti di ogni tipo in una sola volta. Far lavorare i muscoli così velocemente significa bruciare il grasso in eccesso nei punti più critici del corpo. Pensate quanto rapidamente potrete sbarazzarvi di quegli orribili rotolini, delle maniglie dell'amore e anche del grasso sulla schiena. Nessun'altra cintura in commercio può fare lo stesso. Trenta giorni fa guardandomi allo specchio vedevo solo grasso a rotoli di ciccia. Ero totalmente flacido, non mi piacevo. Ero a disagio con il mio corpo e volevo sbarazzarmene. Dopo aver usato Hubs Around per 30 giorni guardandomi allo specchio mi sono sentito meglio. Ho perso 15 centimetri. È un risultato incredibile. Conosco bene i benefici dell'elettrostimolazione muscolare perché la pratico da circa 12 anni. A differenza dei normali esercizi l'elettrostimolazione muscolare ti permette di isolare le fasce muscolari in modo molto più efficace e nello stesso tempo di regolare l'intensità delle contrazioni. Abbiamo confrontato i piegamenti con il lavoro svolto con Hubs Around. Abbiamo chiesto ad un nostro atleta di svolgere più piegamenti possibili in 10 minuti. Dall'immagine termografica notiamo che la stimolazione muscolare è decisamente blanda sui muscoli laterali e del tutto assente nella parte posteriore del busto. Poi gli abbiamo chiesto di indossare l'Hubs Around che lavora sui muscoli frontali, laterali e posteriori contemporaneamente per 10 minuti a un livello di intensità elevato. Con Hubs Around viene generato più calore in tutta l'area frontale ma nello stesso tempo anche i muscoli laterali e quelli posteriori mostrano una notevole stimolazione muscolare. Quindi l'allenamento svolto con Hubs Around garantisce maggiori benefici di un allenamento tradizionale. Ho due bambini e quando hai dei bambini il tuo corpo cambia e io desideravo tornare ad essere quella che era una volta. Beh, James Forms Hubs Around mi è stato decisamente di grande aiuto. Tra poco vi mostreremo come fanno gli atleti a rafforzare i muscoli del busto e a ridurre il grasso con Hubs Around. Così le loro prestazioni sono sempre al top. Inoltre vi mostreremo la piccola cintura in omaggio utile per potenziare i muscoli delle braccia o per eliminare la cellulite sulle gambe. Forza, scendete dal divano, correte al telefono, chiamate e ordinate la Jim Forbes Hubs Around. Potrei parlarvi all'infinito di quanto sia semplice da usare, che potete usarla ovunque, quando volete e tantissime altre chiacchiere. Ma tutto quello che vi serve sapere è che funziona. Vi permetterà di eliminare il grasso sulla pancia all'altezza della vita, di eliminare i rotoli sulla schiena e vi renderà più tonici, più sodi e più forti. E vi assicuro che non passerà giorno in cui non sarete soddisfatti dell'acquisto e felici del vostro nuovo corpo. Hubs Around. Gli operatori vi stanno aspettando. Oggi vogliamo parlarti di un problema serio. Vuoi eliminare il grasso sulla pancia in vita e sulla schiena? Puoi provare a fare degli addominali per la pancia, delle rotazioni per le maniglie dell'amore e, disteso a pancia in giù, sollevare gambe e braccia per rassodare la schiena. Le cinture addominali come questa possono aiutare, ma devi prima posizionarla sulla pancia, poi su un lato, poi sull'altro lato e infine sulla schiena. Non sono molto efficienti. Ora, finalmente, qualcuno ha trovato la soluzione. Ti presentiamo la Gene Forms Hubs Around, l'innovativa cintura fitness che lavora sull'intera parte centrale del corpo. Addominali alti, bassi, obliqui, vita, schiena e anche sui muscoli che sostengono la colonna. Tutto allo stesso tempo. È metodo dell'innovativa tecnologia di stimolazione muscolare a 360 gradi di Hubs Around. Questo innovativo apparecchio utilizza l'elettrostimolazione muscolare, scientificamente provata e utilizzata con successo da atleti e astronauti. Hubs Around è l'unica cintura in grado di eliminare il grasso e di scolpire tutti i muscoli della pancia. Tonifica le tue maniglie dell'amore donandoti una figura snella e sexy. Eliminerai il grasso e rafforzerai i muscoli della schiena. Così miglioreranno anche la tua postura e il tuo equilibrio. Hubs Around ha sei diversi programmi che vanno da contrazioni rapide e discontinue a contrazioni lunghe e profonde. Tre diversi canali, uno per la pancia, uno per il punto vita e uno per la schiena. 99 livelli di intensità per ogni canale, per un totale di ben 594 impostazioni per svolgere il tipo di lavoro che desideri. Questo significa che se vuoi un livello di intensità maggiore sui tuoi addominali ma un livello medio in vita e sulla schiena, non c'è problema, puoi farlo. È il tuo allenamento quotidiano. Hubs Around contrai i tuoi muscoli così velocemente che ti sembrerà di svolgere fino a 400 piegamenti, 400 rotazioni e 400 esercizi per la schiena al minuto nello stesso tempo. Così i tuoi muscoli lavoreranno più intensamente e bruceranno grassi più in fretta e con meno sforzo. Basta avvolgere il corpo con la cintura Hubs Around e accendere l'apparecchio. Puoi fare tutto quello che vuoi in giro per casa. È il tuo allenamento quotidiano di 10 minuti. Puoi anche decidere di trasformare il tuo salotto in un centro fitness Hubs Around. Niente stress, niente sforzi e niente sudore. Una serie di trattamenti professionali di elettrostimolazione muscolare ti costerebbe centinaia di euro ma con Hubs Around non dovrai spendere così tanto. È l'unica cintura fitness che lavora su pancia, vita e schiena nello stesso tempo. Infatti ordinando oggi potrai approfittare di un'offerta limitata e acquistare Hubs Around a soli 99 euro. Ti basta una telefonata per ricevere l'innovativa cintura fitness ad alta intensità Hubs Around completa dell'innovativo microprocessore e lettore digitale su cui sono riportate la tipologia e l'intensità del lavoro svolto davanti, lateralmente e dietro. Inoltre riceverai questa piccola borsa per portare la tua Hubs Around con te anche in viaggio e la nostra guida nutrizionale. Ma non è finita. Se rientrerai tra i primi cento che telefoneranno ti invieremo anche questa piccola cintura fitness per lavorare in modo mirato su bicipiti, tricipiti, spalle, polpacci e cosce per eliminare la cellulite. Riceverai due cinture al prezzo di una. Una cintura lavora su tutta l'area del busto mentre quella piccola effettua un lavoro mirato sulle altre parti del corpo per un allenamento davvero completo. La cintura fitness Hubs Around con microprocessore, la borsa da viaggio, il piano dietetico e la mini cintura per lavorare sulle altre parti del corpo, tutti questi prodotti saranno tuoi a solo 99 euro. Un corpo tonico, sexy e con addominali scolpiti. Ti basta una telefonata per ottenerlo. Le nostre linee sono aperte. Chiama adesso! La Gym Forms Hubs Around rassoda e tonifica tutte le vostre antiestetiche protuberanze. Jordan, intendi il grasso? Beh sì ma provavo ad essere un po' più delicato. Lasciamo perdere giri di parole. Con Hubs Around eliminerete il grasso sulla pancia, in vita e quegli orribili rotoli di ciccia sulla schiena. In poco tempo sarete più tonici, più sodi e più forti ma dovete usarlo. Noi consigliamo 10 minuti al giorno. È davvero facile perché mentre la indossate potete continuare tutte le vostre attività e dentro 30 giorni vi assicuriamo che quello che vedrete nello specchio vi piacerà. Adoro Hubs Around perché ho appena superato i 50 e presto sarò preda della menopausa. Quindi quello che mi serve è un piccolo aiutino extra per tonificarmi, riuscire a perdere qualche chilo, i centimetri di troppo e potermi così sentire bene con me stessa. Due anni fa sono stato operato di appendite e questo ha indebolito i muscoli della pancia quindi svolgere dei piegamenti e delle flessioni era davvero dura perché affaticavo i muscoli addominali. Utilizzando la cintura Hubs Around posso allenare i muscoli addominali senza sforzarli. È arrivato il momento di incontrare alcuni atleti che utilizzano Hubs Around per migliorare le loro prestazioni. Amy Johnston è cintura nera di arti marziali, usa Hubs Around per rafforzare i muscoli del busto e far sì che i suoi colpi siano più potenti. Lo stuntman Jim Robinson lo usa per potenziare i muscoli del busto e affrontare meglio gli ostacoli come saltare un'auto in corsa. La ginnasta olimpica Jennifer Parilla la usa per potenziare il suo busto e riuscire a atterrare perfettamente sul trampolino elastico e darsi la spinta per saltare. Quello che mi piace di più di Hubs Around è che svolge un allenamento completo per tutto il busto nello stesso tempo. Questo è fondamentale per un atleta. Bisogna avere un busto forte qualunque sia la tua disciplina sia che si tratti di correre o di saltare su un trampolino elastico. Il busto è la parte del corpo più importante e più è forte migliori saranno le tue prestazioni. Dopo aver vinto molti titoli fitness so per esperienza personale che il busto è la parte del corpo più importante. Ecco perché i personal trainer che allenano questi atleti raccomandano di usare Hubs Around per aiutarli a raggiungere una perfetta forma fisica. I miei clienti usano Hubs Around non solo a casa ma anche in palestra. È l'attrezzo perfetto per isolare i tuoi muscoli frontali, obliqui e posteriori. Quando alleno i miei atleti dico sempre loro che devono avere un busto strepitoso, mostrare i giudici e Hubs Around può aiutare ad ottenerlo. Lo uso anch'io e ho vinto svariati titoli. Svolgo molti piegamenti e flessioni ma con Hubs Around le contrazioni sono le più profonde che abbia mai sentito. Ecco il momento che preferisco dello show. Abbiamo portato le nostre telecamere in un centro commerciale e abbiamo fatto provare Hubs Around ai clienti del centro. Ora vi mostreremo le loro reazioni. Mi sento come se stessi facendo 400 piegamenti. Il mio intero busto è decisamente in contrazione e questo mi tonifica. Sono una persona pigra e questa cintura mi permette di tonificarmi durante il giorno senza dover far nulla. Posso stare seduto e guardare la tv. Sento che lavora in quest'area. Un punto critico per le donne, soprattutto dopo aver avuto un bambino. Tonificarla è davvero arduo. È la prima volta che provo un apparecchio come questo e mi sembra davvero efficace. È come se fossi in palestra ad allenarmi e invece sono fermo. È wow. Finalmente qualcuno è riuscito a progettare la migliore delle cinture fitness, la Gym Forms Hubs Around. Nessun'altra cintura può garantirvi quello che la Hubs Around è in grado di fare. In breve tempo, eliminerete il grasso dalla pancia e otterrete degli addominali scolpiti. Rafforzerete le maniglie dell'amore e otterrete una figura snella e sexy. Inoltre, rafforzerete i muscoli della schiena acquistando una migliore postura e un migliore equilibrio. Gym Forms Hubs Around è vicina come il tuo telefono. Ordinala adesso. Una serie di trattamenti professionali di elettrostimolazione muscolare ti costerebbe centinaia di euro, ma con Hubs Around non dovrai spendere così tanto. È l'unica cintura fitness che lavora su pancia, vita e schiena nello stesso tempo. Infatti, ordinando oggi, potrai approfittare di un'offerta limitata e acquistare Hubs Around a soli 99 euro. Ti basta una telefonata per ricevere l'innovativa cintura fitness ad alta intensità Hubs Around, completa dell'innovativo microprocessore e lettore digitale, su cui sono riportate la tipologia e l'intensità del lavoro svolto davanti, lateralmente e dietro. Inoltre, riceverai questa piccola borsa per portare la tua Hubs Around con te, anche in viaggio, e la nostra guida nutrizionale. Ma non è finita! Se rientrerai tra i primi 100 che telefoneranno, ti invieremo anche questa piccola cintura fitness per lavorare in modo mirato su bicipiti, tricipiti, spalle, polpacci e cosce per eliminare la cellulite. Riceverai due cinture al prezzo di una. Una cintura lavora su tutta l'area del busto, mentre la piccola effettua un lavoro mirato sulle altre parti del corpo per un allenamento davvero completo. La cintura Fitness Hubs Around con microprocessore, la borsa da viaggio, il piano dietetico e la mini cintura per lavorare sulle altre parti del corpo, tutti questi prodotti saranno tuoi a soli 8 euro. Un corpo tonico, sexy e con addominali scolpiti. Ti basta una telefonata per ottenerlo. Le nostre linee sono aperte. Chiama adesso! Voglio chiederti una cosa. Sei mai stato al famoso Centro Fitness Hubs Around? Certo che ci sono stato! Ne ero sicura! Lo so che anche tu ci sei stata. Scommetto che chiunque compri la Gym Forms Hubs Around, poi provi a creare il proprio Centro Fitness a casa. Sembrano divertirsi, non ti pare? Si stanno divertendo moltissimo! Esatto! Non sembra che si stiano allenando. È questo il bello della Gym Forms Hubs Around. Il Centro Fitness è proprio a casa tua. Svolgi un allenamento efficace e ti diverti nello stesso tempo. Quello che mi piace di Hubs Around è che non devo prendere la macchina, andare in palestra, sudare. Posso restare in pigiama a bere il mio tè perché Hubs Around lavora per me. La Gym Forms Hubs Around si basa sull'elettrostimolazione muscolare, scientificamente provata e nota come EMS. Contrae i muscoli al vostro posto. Voi dovete solo sedervi e raccoglierne i benefici. Prove scientifiche lo dimostrano. È stato condotto uno studio indipendente su uomini e donne di età compresa tra i 28 e i 55 anni. È emerso che il 77% delle persone che hanno utilizzato Hubs Around ha ridotto in modo evidente l'intera area addominale in due settimane. Dopo altri 15 giorni, la percentuale di partecipanti che ha assistito a un cambiamento significativo è salita al 92%. Se Hubs Around ha funzionato con loro, funzionerà anche con voi. Con Hubs Around hai a disposizione la nuovissima e mai usata finora tecnologia di stimolazione muscolare a 360 gradi. Questo significa che non lavora solamente su una parte, ma su tutte le parti del busto, incluso i muscoli profondi che sostengono la colonna. Nessun'altra cintura può garantire risultati simili. Hubs Around ti aiuta ad eliminare il grasso intorno alla tua intera area addominale. Tonifica, rafforza e rassoda tutti i muscoli in quell'area, aiutandoti ad ottenere addominali scolpiti e quella pancia tartaruga che hai sempre sognato. Hubs Around è la sola cintura in commercio oggi in grado di eliminare accumuli di grasso non solo sui muscoli frontali e obliqui, ma anche sulla schiena. Il vantaggio di lavorare con Hubs Around è che ti permette di lavorare su un'area alla vuota o su tutte le parti nello stesso tempo. Trenta giorni fa, prima di iniziare ad usare Hubs Around, tutta l'area intorno alla mia pancia era molle e flaccida. Dopo aver usato Hubs Around mi sono accorta che i jeans mi stavano larghi in vita e che sui fianchi non mi stringevano più come prima. Quando usi un apparecchio fitness devi ordinare al cervello cosa fare. Con la Gym Forms Hubs Around il suo microprocessore lavora al tuo posto. Tu ti rilassi mentre i tuoi muscoli del busto si allenano. Esatto e ricordate Hubs Around ha 6 programmi e 99 livelli di intensità. È questo il grande vantaggio. Potete svolgere un allenamento più o meno intensivo, siete voi a decidere. Dopo aver usato Hubs Around per 30 giorni ho notato un miglioramento nella solidità del mio busto. Ora, quando pratico dello sport mi rendo conto che ho una maggiore resistenza e che posso allenarmi più a lungo. Insomma, adesso la mia preparazione atletica è decisamente migliore. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Come potete vedere i nostri modelli Amy, Joe e David stanno lavorando a dovere o forse dovrei dire riposando a dovere. Comunque stanno svolgendo un allenamento valido ed efficace. È questo il vantaggio di lavorare con Hubs Around. Restando seduti, tonificate gli addominali alti, quelli bassi, le maniglie dell'amore, i muscoli obliqui e i muscoli della schiena. È la vostra ultima occasione per ordinare la Gym Forms Hubs Around. Non è in vendita nei negozi e ordinando subito riceverete anche la piccola cintura per potenziare braccia e gambe. Scendete dal divano, correte al telefono, chiamate e ordinate la Gym Forms Hubs Around. Potrei parlare, parlare, parlare per tutta la notte, ma quello che vi serve sapere è che questa cintura funziona ed eliminerà completamente il grasso sull'intera area addominale. Vi assicuro che non passerà giorno in cui non vi sentirete soddisfatti dell'acquisto e felici del vostro corpo. Hubs Around, non perdete quest'occasione e grazie per essere stati con noi oggi. Oggi vogliamo parlarti di un problema serio. Vuoi eliminare il grasso sulla pancia in vita e sulla schiena? Puoi provare a fare degli addominali per la pancia, delle rotazioni per le maniglie dell'amore e, disteso a pancia in giù, sollevare gambe e braccia per rassodare la schiena. Le cinture addominali come questa possono aiutare, ma devi prima posizionarla sulla pancia, poi su un lato, poi sull'altro lato e infine sulla schiena. Non sono molto efficienti. Ora, finalmente, qualcuno ha trovato la soluzione. Ti presentiamo la Gym Forms Hubs Around, l'innovativa cintura fitness che lavora sull'intera parte centrale del corpo, addominali alti, bassi, obliqui, vita, schiena e anche sui muscoli che sostengono la colonna, tutto allo stesso tempo. È merito dell'innovativa tecnologia di stimolazione muscolare a 360 gradi di Hubs Around. Questo innovativo apparecchio utilizza l'elettrostimolazione muscolare, scientificamente provata e utilizzata con successo da atleti e astronauti. Hubs Around è l'unica cintura in grado di eliminare il grasso e di scolpire tutti i muscoli della pancia. Tonifica le tue maniglie dell'amore donandoti una figura snella e sexy. Eliminerai il grasso e rafforzerai i muscoli della schiena, così miglioreranno anche la tua postura e il tuo equilibrio. Hubs Around ha sei diversi programmi che vanno da contrazioni rapide e discontinue a contrazioni lunghe e profonde. Tre diversi canali, uno per la pancia, uno per il punto vita e uno per la schiena. 99 livelli di intensità per ogni canale, per un totale di ben 594 impostazioni per svolgere il tipo di lavoro che desideri. Una serie di trattamenti professionali di elettrostimolazione muscolare ti costerebbe centinaia di euro, ma con Hubs Around non dovrai spendere così tanto. È l'unica cintura fitness che lavora su pancia, vita e schiena nello stesso tempo. Infatti ordinando oggi potrai approfittare di un'offerta limitata e acquistare Hubs Around a soli 99 euro. Ti basta una telefonata per ricevere l'innovativa cintura fitness ad alta intensità Hubs Around completa dell'innovativo microprocessore e lettore digitale su cui sono riportate la tipologia e l'intensità del lavoro svolto davanti, lateralmente e dietro. Inoltre riceverai questa piccola borsa per portare la tua Hubs Around con te anche in viaggio e la nostra guida nutrizionale. Ma non è finita. Se rientrerai tra i primi 100 che telefoneranno, ti invieremo anche questa piccola cintura fitness per lavorare in modo mirato su bicipiti, tricipiti, spalle, polpacci e cosce per eliminare la cellulite. Riceverai due cinture al prezzo di una. Una cintura lavora su tutta l'area del busto, mentre quella piccola effettua un lavoro mirato sulle altre parti del corpo per un allenamento davvero completo. La cintura fitness Hubs Around con microprocessore, la borsa da viaggio, il piano dietetico e la mini cintura per lavorare sulle altre parti del corpo. Tutti questi prodotti saranno tuoi a soli 99 euro. Un corpo tonico, sexy e con addominali scolpiti. Ti basta una telefonata per ottenerlo. Le nostre linee sono pe... Grazie a tutti!